Ciao, piacere, mi chiamo Elena Poluzzi, sono un'ingegnere manager in una multinazionale, sono una coach professionista e anche un'insegnante di Power Yoga. Ho deciso di intraprendere un percorso con Simone in un momento in cui ero estremamente bloccata. Stavo già facendo un lavoro molto impegnativo, che è quello che attualmente ancora svolgo, ho un contesto familiare particolare per cui vivo da sola con i miei due figli adolescenti e pur avendo acquisito il diploma da coach non ero sicura di volere realmente iniziare nel propormi in questa attività perché non riuscivo a trovare la modalità migliore. Il mio timore era quello di non riuscire a bilanciare l'attività di coach all'interno del mio personale work-life balance, che essendo un mio lavoro estremamente impegnativo e appunto avendo questo contesto familiare, diciamo così, a dir poco sfidante, avevo molta paura ad iniziare. Così come sono una persona estremamente riservata e ero quasi terrorizzata all'idea di propormi, di pubblicizzarmi, di esporre quello che io intendevo fare come coach e come appunto da un punto di vista professionale. Ho iniziato un percorso con lui che è durato cinque sessioni. Devo dire che già dalla prima sessione siamo riusciti insieme a trovare quella che per me è stata non solo una modalità per partire, ma ne è uscito un progetto che mi piace molto, insomma che è proprio la base di un nuovo modello di coaching che ho ideato che si chiama Coaching in the Sunrise, ovvero lui è riuscito a tirare fuori da me una modalità di lavoro che effettivamente mi ha consentito di andare a conciliare esigenze familiari con il desiderio comunque di portare avanti un progetto per la professione di coach che mi faceva sentire realmente realizzata. Da ingegnere mi mancava la componente di aiuto alla persona, mi mancava il lavoro con il prossimo, il fatto di fare bene alle persone. Grazie a lui sono riuscita a mettere in piedi un vero e proprio progetto. La prima volta, durante la prima sessione devo dire, c'è stata l'idea, c'è stato lo sblocco e mi ha seguita anche dopo poi per mettere in atto il progetto. Bisogna considerare che il coaching sia uno strumento per tirare fuori il potenziale della persona ma è anche uno strumento molto efficace per mettere in atto i piani di azione proprio per stabilire insieme al coach tutte le varie tappe e poi per arrivare all'esecuzione. Devo dire che Simone rispetto ad altri coach ha due caratteristiche fondamentali. La prima è una bomba di energia, cioè avvicinarsi a Simone significa essere travolti da veramente un'esplosione di energia, non si può non venirne contagiati. La seconda è che lui è molto tenace, lui non molla il corpo, lui è molto presente a differenza di altri coach, segue anche durante il percorso il coach C e devo dire che sono estremamente soddisfatta della mia scelta. Colgo l'occasione per ringraziare Simone che sono già ringraziata personalmente sa benissimo quanto mi sono riconoscente per quello che ha fatto per me anzi mi sa che continueremo ogni tanto a sentirci abbiamo una qualche sessioncina e faccio un grandissimo in bocca al lupo a tutti quelli che faranno un percorso con lui. Un bacione!